16 settembre 2021, via Botticelli, tra via Botticelli e via Caravaggio, indagine penetrometrica, indagine geognostica con il penetrometro dinamico, proprio al di sotto di una copertura di un ex di un ex capannone industriale. A seguito della demolizione già avvenuta, la proprietà ha deciso di costruire un altro capannone e qui stiamo facendo le indagini geologiche per caratterizzare il sottosuolo. Dai primi risultati appare un sottosuolo di tipo prevalentemente coesivo, quindi tendenzialmente semiplastico, con la presenza quindi di limo, sabbio, argilloso. Comunque comportamento più che altro plastico. È un di tipo poco, da mediamente a poco coesivo nei primi due o tre metri per poi migliorare come consistenza. Poi faremo la prova anche della misura della falda e la prova dell'indagine sismica. Per oggi è tutto, questo primo cantiere della giornata, poi se ne seguiranno qualcun altro. Sono a Moglia nella bassa pianura mantovana a confine con il comune di Novi.